Durante il sonno. Gli strumenti come vengono a conoscenza dei neologismi che poi comunicano durante le transe che attengono alle strutture di pensiero erogate dai grandi cenacoli? Commento. Li conoscono di notte, durante il sonno, come accade presso il cerchio K. Il nostro corpo fisico è intriso di energia, sia pure di modesto voltaggio, che accede ai corpi superiori che lo avvolgono e lo mettono in comunicazione con i maestri immateriali.